ben ritrovati ben ritrovati nel mio canale in questo mio nuovo video prima di partire mi raccomando è assolutamente importante l'iscrizione al canale per sostenere il canale la campagna nativa per essere avvisati nel momento in cui vengono postati dei nuovi video e l'iscrizione anche al gruppo whatsapp tra i miei iscritti a cui tengo in maniera particolare le info le trovate in descrizione allora letto un po di notizie su quelle che sono praticamente le le notizie o perlomeno quelle che potranno essere a maggio le contrattazioni che porteranno la serie a o perlomeno la lega serie a a discutere i nuovi contratti con le pay tv allora sappiamo benissimo che il movimento di sdetta da zone ovviamente promosso da quello che è il tifo juventino e compreso ha dato molto 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 fastidio ovviamente nessuno andrà a dire esattamente quanti abbonamenti sono stati disdetti ovviamente c'è chi dice 500.000 c'è chi invece addirittura 6.000 cosa insomma altamente improbabile altamente improbabile perché perché praticamente tutti i juventus club doc diciamo così hanno diramato dei comunicati quindi in tutta italia che i loro sostenitori a fare diciamo disdetta di quello che è il contratto delle pay tv quindi se tanto mi da tanto insomma 6.000 sono decisamente poche ovviamente io sono andato un po a vedere quelli che sono dei dati che è praticamente quasi impossibile se non sotto un altro profilo ovvero i dati audite ufficiali quelli sono ovviamente assolutamente incontestabili perché sono dati da enti ufficiali quindi danno l'idea di quello che è l'andamento perlomeno dei telespettatori in funzione delle giornate di campionato allora mi sono andato a prendere praticamente per ogni giornata il dato auditel del totale dei telespettatori l'unica accortezza o perlomeno l'unica segnalazione che la primissima giornata giocata praticamente a ferragosto del 2022 è un dato approssimativo sono 3 milioni e 700 trovato solo il dato approssimativo non il dato ufficiale però per il resto sono tutti esclusivamente dati ufficiali quindi mi raccomando io vi invito a vedere questo grafico perlomeno quello che sono i dati ufficiali perché da lì non si può assolutamente scappare sono dati imprescindibili si parte con i dati auditel praticamente il pallone rimarca quelle che sono le varie giornate e i dati ufficiali la parte scura è praticamente rappresenta le giornate in cui la juventus ha giocato con i 15 punti di penalizzazione come possiamo vedere dall'inizio fino al 20 gennaio un percorso tendenzialmente in salita dal 20 gennaio arrivare all'ultimissima giornata assolutamente in discesa guardando i numeri praticamente si parte da circa 3 milioni e 7 della prima giornata al 20 gennaio quindi giorno più o meno quello che è la penalizzazione quasi 7 milioni per arrivare alla fine l'ultimissima giornata di 5 milioni 79 praticamente dal 20 di gennaio abbiamo perso un milione 878 mila 900 telespettatori percentuale uguale al 27 per cento in meno quindi considerando i dati 6 mila praticamente quelle che dicono loro sono le disdette è assolutamente un dato che non regge è assolutamente una barzelletta perché altrimenti i numeri non si spiegherebbero e non si spiegherebbero neanche tutte le campagne messe in atto da da zone per riacquisire quelle che sono state le disdette o perlomeno gli utenti che hanno disdetto i loro contratti tant'è che hanno proposto dei forti sconti per rientro io sono assolutamente ancora favorevole per la disdetta da zone perché la fgc praticamente sembra che ci stia facendo la guerra però scorda assolutamente che dati alla mano siamo la prima tifoseria in italia con un quasi un terzo dei tifosi questi sono praticamente i dati ovviamente ognuno si faccia la sua idea però ovviamente i dati sono assolutamente incontrastabile non si possono assolutamente variare detto questo io vi saluto vi ringrazio vi invito mi raccomando iscrivetevi al canale assolutamente importante campagna attiva la i commenti iscrizione al gruppo whatsapp e fino alla fine sempre solo e nonostante tutto forza io